Nella prima giornata di campionato di Serie A1 la Savino del Bene Scandicci batte 3-1 la Yamamai Busto Arsic e conquista tre punti importantissimi per la classifica. Sicuramente emotivamente è importante stare avanti, perché comunque siamo, entrambe le squadre hanno cambiato molti giocatori e quindi trovare il feeling e trovare le certezze da subito è importante. In questa partita abbiamo giocato un po' l'emozione da ambedo le parti, noi avevamo la fortuna di essere in casa e sicuramente questo ci ha aiutato, però non abbiamo espresso la nostra miglior palla a volo, su questo mi dispiace, però abbiamo vinto, quindi vuol dire che abbiamo fatto il necessario e prende il nostro obiettivo e erano tre punti. L'emozione ha fatto, ha giocato anche l'emozione perché comunque la prima di campionato è sempre la prima di campionato e in più secondo me c'è il fatto che fino adesso comunque abbiamo fatto tornei ma non c'è stato uno studio approfondito sulla squadra avversaria, invece credo che per il campionato qualsiasi squadra si prepari per la squadra avversaria, quindi studia ogni giocatrice in modo da poterla difendere e riuscire a contrastare meglio. La prima è sempre la prima e c'è l'emozione della prima di campionato e se poi la prima di campionato la vinci anche diciamo che ti rilassi un po'. Un altro passettone, non passettino, nel senso che nel vissuto di una squadra situazioni come quelle di questa sera sono fondamentali perché uscire dalle difficoltà che abbiamo trovato e che a un certo punto sembravano insormontabili e chiudere con l'autorità con cui abbiamo chiuso il quarto set secondo me è una cosa molto molto importante e in più dimostra e credo che per tutti, per tutto l'ambiente ce ne sia bisogno, dimostra che quest'anno sarà così sempre e comunque con qualsiasi squadra. Chi vuole dei 3 a 0 comodi deve stare a casa perché non è la stagione giusta.